sono le 11 e mezza di notte domani se non piove farò una challenge prima di cominciare crash real vi faccio vedere un gioco real revolt 2 è un gioco molto bello aspettate è bellissimo perché ci sono non metto più video perché poi vorrei fare un gioco Poi io farò anche i video giochi sulla P4 Allora, non mi faccio reale, faccio a focadenza, provare la Revolt 2 Poi, non mi faccio a me, non c'è mai, non c'è mai, non c'è mai Tanto connessione, collegato, eccolo Connessione non c'è, è nata al vento E' bellissimo Ve lo consiglio molto Adesso facciamo Adesso facciamo Adesso facciamo Adesso facciamo E qui invece, come tenda, non vedete come vedete Quando scaricare questo gioco Adesso facciamo Adesso 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 sopra e vi dà delle spade, delle corone, infatti ora vi faccio dire una cosa, guardate qua sulla spada di corona, cliccate sulla corona, ecco qua, questo è il mio personaggio, come dita, oppure quando dopo finito la battaglia vi fa scegli tre bombi, uno se esce lo scheletro, la faccia con lo scheletro, non vi esce niente, ora se avete due gemme potete riprovare, qua invece abbiamo cliccate sulla spada e vi esce la spada dorata, la spada eroica, cioè queste quelle comprate, questa qua toglie 15,7 di danno, questa qua 5,7 di danno, questa qua 5,7 così come sono sbloccate, questa quella comprata, la spada eroica, poi ci sono questi qua, i spallacci, i ossidiana, li ho sbloccati, i spallacci eroici, li ho sbloccati e questi qua sono i normali, penso, non mi ricordo, poi non so se ho i sicili, per fare una battaglia, come è bello, ah, prima di cominciare la battaglia, per avere la torta dell'alleanza dovete avere la della torta dell'altecronatore, poi facciamo la battaglia, ecco, la mia alleanza si chiama Ita, Sparta, Ita, in corso, tutti i stampadello, Sparta, i membri sono, io mi chiamo Cavaliere01, poi c'è il mio concino che si chiama il 2297, poi c'è un altro mimico, XXZ, cosa che non è, ma devo fare la battaglia, attacco con G5, ma no, no, non mi dico, no, 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 ci sono detto, ok, aspettate, un po' di connessione, difficiletto ecco poi questo gioco è bello perchè ogni battaglia che vinci le volte da 100.000, 500.000 poi più avanti ci sono vari tra le alza che ti da ecco questo gioco come vedete questo è come crash orale che si carica fate così questi sono i miei amici poi fate così altri miei amici però più potenti questi sono i miei poteri l'espressione e il veleno non piano che potete fare questi sono i miei amici che voi chiudete adesso sono i miei amici che ci sono i miei amici i miei amici poi si vedi e quindi Poi queste sono solite leggende Poi se che succede tutto abita a 19.818 Come vi ho fatto vedere Come vedete E poi è uscita la maschera di caldo Il martello di sala prendi oh lo so prendi lo so prendi e le gemmire vedete il baule mi fa prendere lo schiedetto per noi se avete le gemme e poi andiamo a toccare il martello comunque con gratulo le youtuber che sono gli amici e i cugini e il mio cugino ha due canali gilinbruster 2 e gilinbruster poi ci sta più 99 che mi ha aiutato a farla un po e in questo video lo ringrazio però come vedete mi metto sulla corona come ho fatto ho spaccato il martello ci vuole eserci ecco qua il martello poi se volete colorare le vostre armi la vostra armatura tenete premuto sul colore che vi piace premete su qua e lo faccio vedere allora il rosso lo faccio sul martello guardate il martello che blu è diventato rosso poi se non vi piace tornate normale ah no ma l'ha salvato no l'ha salvato però è bello il martello rosso lo usiamo ecco qua però non mi piace così fai io la corona io ho scelto filmina perchè personalizza questo è un uomo che non mi piace non è più è più bello guardate il martello del tigre se volete entrare in questo clan che si chiama ita sparta ricordatevelo ita in corsivo spazio sparta tutto il stampatello che poi ah 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 ut ah ah congelatore congelatore come lo sticone di piaccio è condattata congelano le truppe poi c'è il gorgoyle penso il bombarolo il cannone il piramide questo invece è lo sticone invece questo è lo sticone di piaccio poi c'è il lupo mannaro la balessa sarebbe la... questo è la mummia sarebbe il... il crash off of the lens come si chiama? il re barbaro e questa è la leggera degli arciniti poi c'è la... la sovanguardia tipo così il mortale e il monaco il mortale e il monaco e spero che in questo video vi sia piaciuto e al prossimo... prossimo... video ciao 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 ciao